L'Elemorra lo conosco da molti anni per il suo eccellente lavoro a Mediasin. L'ha aiutato in un momento di grande difficoltà economica, di grande difficoltà come salute e sono orgoglioso di averlo fatto. E la persona minorenne nega di avere mai avuto né avance né tantomeno rapporti sessuali e afferma di essersi presentata a tutti come ventiquattrenne fatto avvalorato da numerosissime testimonianze. Sono destituite di ogni fondamento le accuse a L'Elemorra. E adesso parlo io.